Conf Commercio rimane scettica rispetto all'ipotesi di introduzione del Green Pass su modello francese per accedere, oltre che a grandi eventi, anche all'interno di attività commerciali come bar e ristoranti. Esercizi che, come dichiarato dal Vice Presidente Provinciale Piero Bertolani, già stanno applicando tutti i protocolli previsti e che verrebbero ulteriormente penalizzate se al Green Pass non venisse associato anche il ritorno alla capienza massima dei locali. Non mi sembra che ci siano queste problematiche in Italia, soprattutto nei pubblici esercizi, nei locali che hanno rispettato finora i protocolli. Può darsi che qualcuno non lo abbia fatto, di rispettarli e quindi deve essere sanzionato e talvolta pensare anche alle chiusure. I problemi sono altri, sono i rischi di assembramenti anche all'esterno dei locali. Si vede in continuazione persone che stanno insieme a poca distanza senza usare le mascherine e questi sono i rischi che ci sono, manifestazioni, eventi e compagnia bella. Altro discorso è quello relativo ai grandi eventi, primo tra tutti il Carnevale in programma a settembre e per il quale sono stati messi in vendita a febbraio 12.500 biglietti cumulativi. A breve abbiamo a Viareggio, quindi non tra non molto avremo il Carnevale. Se dovesse andare avanti questa ipotesi, non so come si potrà svolgere i corsi del Carnevale. Se tanto vale dover fare Green Pass per i pubblici esercizi o per i ristoranti, dovrà essere fatto anche per manifestazioni di questo genere. Grazie. Grazie.